Capitano! Cosa c'è, Tola? Luci! Luci azzurra! E' qui che vi occupate di disco volante? Ce l'ha schiantato uno! Ho visto il disco volante. E' accaduto qualcosa a me. Qualunque cosa sia, non è ancora finita. C'è stato uno schianto. E a terra c'era questo. E l'hai portato a me? Abbiamo in mano quell'apparecchio da più di dieci anni e ancora non abbiamo idea di come funzioni. La forza del pensiero, ecco la fonte di energia che i suoi scienziati non hanno saputo trovare. Lei che suggerisce, dottore? Provare altri con poteri mentali inimmaginabili. Jackal! Non farò mai volare il disco. Non ci contare. No! Può impedire che tornino a cercarmi? Ci provo a trovare il disco. Kate, Jesse è speciale. Controllano se è pronto. Pronto per cosa? No! State lontani da me! Rischi volanti. Mio padre e io li abbiamo visti. E ci hanno raggiunto. Non faremmo mai niente che possa ruocere la salute dei cittadini. Niente che sia contrario alla loro espressa volontà. No! No! Ed io personalmente non farei mai niente ai danni di un ragazzino. Dov'è mio padre? Voglio vedere mio padre! Grazie dell'aiuto che offre nuovamente alla nazione. Grazie! No, 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 no.